Apriamo la rassegna stampa con Kurt Angle che ha rischiato di perdere la vita. Lo ha rivelato lui stesso nel corso del suo podcast. La vicenda si è verificata a Miami in Florida dove Kurt Angle di recente è andato per una vacanza e attratto dall'oceano ha deciso di uscire verso la sconfinata distesa d'acqua con una moto, una moto di quelle acquatiche che vanno tanto di moda. Mentre però stava guidando il bolide ne è stato sbalzato via e Kurt Angle non sa nuotare. Oltre al danno anche la beffa, il salvagente di sicurezza che ha tentato di aprire non si è aperto, era malfunzionante e quindi l'ex lottatore stava colando a picco, si stava inabissando, stava affogando. Tra l'altro avendo una limitata mobilità al collo, eredità dei suoi precedenti infortuni nella lotta libera e nel ring, la possibilità di farcela era praticamente zero. Ma fortunatamente la figlia undicenne, che tra l'altro ha un nome italiano, Giuliana, ha visto tutto. Questa ragazzina viene ritenuta da tanti una futura promessa del nuoto a stelle strisce. Ha già addosso gli occhi di numerosi osservatori e a suon di bracciate ha raggiunto il papà. Lo ha tenuto a galla e lo ha ritrascinato verso la moto d'acqua. Quindi lo ha messo al sicuro. Tutto è bene ciò che finisce bene, ma mi immagino lo spavento. Cambiamo pagina e andiamo a Charlotte Flair, perché il padre di Charlotte, Rick, di recente è stato intervistato da Corey Graves e gli ha svelato come mai Charlotte è stata così a lungo lontana dalla WWE. Si tratta di parecchi motivi che vanno a formare un bel mazzolino. Allora innanzitutto lo stress. Charlotte era un po' stanca fisicamente. Ormai erano tanti e tanti mesi, a parte brevissime pause, che si stava esibendo ad alto livello nella federazione. Quindi aveva bisogno di staccare un po' la spina e ricaricare le batterie. Poi non aveva avuto modo di andare in luna di miele con Andrade dopo che i due si erano sposati. Di conseguenza ha colto la palla al balzo per organizzare il viaggio, chiamiamolo matrimoniale, che l'ha portata anche a fare più di una tappa in Italia. Terzo motivo, i due hanno comprato casa. Charlotte e Andrade hanno acquistato un'abitazione. Ne consegue che hanno dovuto sbrigare diverse formalità burocratiche, magari fare dei lavori, supervisionarli, arredarla, fare mille cose. Infine, quarto motivo, Charlotte aveva bisogno di un importante intervento di chirurgia dentale. Credo che si dica così, dentale o dentaria. Perché c'erano dei problemi da risolvere, ormai insomma pregressi da tanto tempo. Quindi ha approfittato dei mesi in panchina anche per mettere a posto questa cosa. Andiamo avanti e parliamo ora di Bray Wyatt. Come avrete visto, non ho potuto registrare il solito video con le sue dichiarazioni tradotte, perché non c'era, non c'è stato nell'ultima puntata di SmackDown. Stando a Fightful, l'assenza era prevista. Bray non era nemmeno nel backstage. Per motivi personali. Non sappiamo, magari una cerimonia, magari un funerale, una commemorazione, qualcosa della sua vita privata. Non ne abbiamo idea. Ma non c'era, stando alla fonte citata, non perché WWE non ha voluto utilizzarlo, ma perché era già nei piani che così fosse. E chiudiamo, per gli amanti della statistica, con Scarlett, che sempre nell'ultima puntata di SmackDown, cronologia americana, ha disputato il suo primo match ufficiale nei roster principali a livello televisivo. La rivedremo con una certa frequenza? Difficile dirlo, però intanto ha rotto il ghiaccio. E con questa ho terminato. Ora tocca a voi, se vi va, commentare qui sotto tutte le news che ho condiviso attraverso questo video.